eccoci facciamo una ripresa di quello che abbiamo fatto nella terza lezione vediamo come fare, come organizzare, come strutturarci per presentare un insieme di oggetti in un mondo virtuale io qui ho fatto un piccolo esempio ho già scaricato una serie di texture che sono dei quadri di Van Gogh andiamo a vederli sotto textures vedete che c'è questo che sono i mangiatori di patate vedete, ce n'è un altro night cafe e così via vogliamo però presentarli in modo tale da essere fruibili in una mostra cioè una specie di museo virtuale piccolo museo virtuale quindi prima di tutto dobbiamo fare un'ambientazione un'ambientazione raccolta e lo facciamo in maniera semplificata allora lezioni ho fatto con dei recinti qua facciamo qualcosa di leggermente più complicato cioè costruiamo altro build oppure anche costruisci costruiamo dunque qui eccolo lì è comparso un cubo in realtà lo trasformiamo questo oggetto in un cilindro e lo facciamo un pochino più grosso quindi le dimensioni lo facciamo in metri 10x10 ok? dopodiché lo foriamo in modo tale da poterlo usare come superficie per esporre i quadri quindi mettiamo un foro al 99% lo alziamo un po' ecco poi se vogliamo mettere i quadri qui dentro dobbiamo anche consentire di entrare e quindi facciamo un taglio qui facciamo un piccolo taglio per permettere ecco vedete una porta per entrare e quindi a questo punto e un po' se ce lo lascio abbiamo questa superficie espositiva in cui possiamo entrare e potremmo vedere insomma i nostri quadri esposti per inciso qui siamo a Piramide Osita che è una sim su craft dove qui ci sono varie queste sono le come si chiama i giardini pensili in Babilonia credo qualcosa del genere e qua è stato tra l'altro progettato qualche anno fa proprio per contenere mostre di questo tipo quindi nel caso se volete potete venire qua oppure ovviamente su Edmond per fare tutti i vostri mestieri allora questa superficie espositiva la facciamo magari con una texture nera dunque texture qui svuota facciamo un nero quindi mettiamo i quadri su nero poi ovviamente ognuno di voi è libero di mettere i quadri come vuole e dopodiché mettiamo i singoli quadri quindi per mettere i singoli quadri cominciamo facciamo un costruiamo il nostro cubo di partenza lo appiattiamo vedete che sto lavorando ci va un pochino e lo rendiamo un pochino delle dimensioni di un quadro che possiamo esporre se no possiamo anche lavorare qua dimensioni quindi 0,5 0,5 no ma facciamo facciamolo così ok diciamo che il quadro di base è questo e qui ci vogliamo mettere i nostri disegni quindi prendiamo il primo la prima cosa che abbiamo potato eaters i mangiatori di patate e ci mettiamo semplicemente l'immagine sopra e poi gli mettiamo nel titolo potato eaters che è questo quadro vi ho visto che per renderlo un pochino più brillante possiamo fare massima luminosità e eventualmente metterci un pochino di bagliore vedete che diventa un pochino più visibile tra l'altro questo tipo di cose si possono poi adesso lo vedremo dopo vedere anche notturnamente con degli ottimi risultati quindi questo è il primo quadro visto che abbiamo un sacco di informazioni su questo quadro vi trovate su una pagina di questo tipo vedete che c'è depotato eaters vogliamo prendere tutta questa informazione e vorremmo in qualche modo visualizzarla come etichetta questo quadro in modo tale che chi vede questo quadro veda queste cose allora la modalità che suggerisco allora qui non ci ha preso il titolo quindi potato eaters ho visto che a volte ci sono dei problemi con imprudence a tenere le cose ci mettiamo il titolo e visto che vogliamo per farlo su righe diverse ci metteremo ogni tanto un tratto basso per andare a capo vedremo per mettere superiore quindi olio su canvas le dimensioni 81,5 poi a 114,5 cm qui è scritto dove è Vincent Van Gogh Amsterdam ok ora se siamo fortunati questo dato si viene conservato e a questo punto abbiamo trovato un sistema affinché questo quadro sia innanzitutto lo attacchiamo alla parete quindi lo muoviamo lo muoviamo praticamente qua con ctrl lo giriamo e lo fissiamo in un posto di nostro gradimento per esempio lì ok quindi il quadro è là ok possiamo fare lo stesso mestiere anche per gli altri quadri che abbiamo preso sempre Gog Night Café quindi lo duplichiamo questo quindi basta fare shift e poi trascinarne una copia vedete qui c'è una nuova copia e qui ci mettiamo invece Gog Night Café questo e quindi abbiamo fatto Gog Night Café e abbiamo fatto il secondo quadro della mostra lo giriamo un attimo perché lo vogliamo mettere in questa posizione ad esempio e questo diventa lui chiaro che possiamo fare la mostra con tutti i quadri di Van Gogh così come sono ma è anche vero che sarebbe meglio metterci sopra una descrizione di quello che sono Gog Night Café lo allora questo qui è potato etter questo qui invece il titolo se l'è copiato ma sarebbe The Night Café The Night Café mentre la descrizione la andiamo a prendere dal nostro The Night Café eccolo qua di Aero University Art Gallery andiamo gliela scriviamo vediamo un po' se riusciamo a fare un niente non ha funzionato l'incolla tasto destro copia andiamo riproviamoci vediamo se siamo più fortunati ctrl V niente e pasta niente sì non funzionava perché quando si fanno queste cose ci sono questi caratteri strani con le vocali accentate che in questo caso non si possono mettere le sostituiamo con E e degli apicetti perché qua nella descrizione non possono stare caratteri strani in questo caso l'ho semplicemente ricopiato su una note card rifatto oppure lo scrivete a mano e allora abbiamo effettivamente il nostro i due nostri quadri supponiamo di farli tutti e sei quadri magari li allineiamo meglio quindi prendiamo il quadro allora bisogna sempre avere molta pazienza quindi ecco vedete lo allineate lo girate e lo ruotate insomma gli fate quello che volete se per caso ecco una cosa che può essere utile potete usare la modalità locale piuttosto che globale vedete che globalmente lui usa gli assi per spostarlo che sono quelli direzione della sim ma in questo caso per muovere questo oggetto qua conviene avere la modalità locale in modo tale che gli assi coincidano proprio con il quadro e quindi diventano più facili da spostare ok allora supponiamo di averlo fatto per tutti i quadri quindi aver fatto tutta la descrizione vogliamo però far comparire etichettare questi quadri come fare dobbiamo fondamentalmente avere questo abbiamo qua ecco un indirizzo abbiamo un un posto dove ho caricato lo script il posto il posto è su internet in questo famoso sito che consente la distribuzione di pezzi di testo cioè tipo note card ok lo vediamo anche qua in pratica andiamo su una pagina web in cui possiamo cliccare qua e cliccando praticamente qua viene copiato per selezionato tutto il testo e può essere copiato poi su text below is selected facciamo ctrl c ecco vedete che cliccando qua viene selezionato tutto il testo e poi facciamo tasto destro copy o anche ctrl c e in questo modo questo viene preso tutto questo script e possiamo crearci uno script noi nel nostro inventory come facciamo a creare lo script andiamo nel nostro invento e facciamo crea nuovo script gli diamo il nome etichettatrice gli mettiamo un underscore e un chiocciolo e questo poi ve lo spiegherò un'altra volta bene a cosa servono o se ce la facciamo anche in fondo a questo punto apriamo no prima ci ricordiamo di mettergli full permission che è sempre un consiglio che do sempre apriamo il nostro script e gli incolliamo ctrl v lo script che abbiamo preso da fuori salviamo una volta salvato a questo punto questo script è la caratteristica di etichettare gli oggetti con la loro descrizione quindi prendo questo lo metto qua e vedete che sopra mi compare la sua descrizione quindi anche questa lo mettiamo qua e viene sopra la descrizione e così via posso farlo per tutti i miei quadri quindi questo è il meccanismo per la descrizione notate che magari quando cominciano a esserci queste cose conviene staccare un po' i quadri in modo tale da ridurre l'effetto di inquinamento visivo dovuto a queste etichette e l'altra cosa notevole è che volendo potete cambiare i colori e come fate a cambiare i colori ad esempio se questo a parte che per vederlo leggermente meglio possiamo prendere questo signore e alzarlo un po' in modo tale da ecco vederlo sul proprio come se fosse una mostra d'arte poi se vogliamo che questo titolo sia tutto in blu ad esempio basta che in fondo alla descrizione andiamo in fondo in fondo ci mettiamo chiocciola e poi gli mettiamo il codice di un colore e i codici di un colore l'ho spiegato la lezione sono dati da specie di parentesi minore e maggiore in cui in mezzo ci sono le quantità di rosso, verde e blu RGB no? red, green e blu quindi se noi vogliamo farlo blu mettiamo 0 di rosso 0 di verde e 1 di blu salviamo a questo punto se noi lo rietichettiamo con la rietichettatrice vedete che è diventato di un bel blu così come se questo lo vogliamo verde andiamo in fondo facciamo chiocciola e gli mettiamo minore verde il primo quindi 1 0 0 facciamo così rietichettiamo di nuovo e vedete che è diventato ah no scusate l'ho messo rosso perché è il primo numero se vogliamo metterlo verde lo mettiamo in quell'altro modo solo una cosa che abbiamo visto anche a lezione se vogliamo duplichiamo questo oggetto ho provato shift e facciamo un altro quadro qua lo realineiamo in modo tale che possa più o meno andare ecco qua se noi vogliamo invece togliere la scritta dobbiamo andare sulla descrizione qua la seleziamo tutta la cancelliamo magari premiamo anche uno spazio e a questo punto possiamo spostarci lo script e vedete che va via il titolo un'altra cosa importantissima di questo genere di script tra l'altro lo script l'indirizzo lo trovate su descrizione del video youtube e che in realtà lo tenete soltanto sul vostro inventory qua ma non c'è dentro la sim cioè questi oggetti sono vuoti e non hanno contenuto di script quindi è una modalità di etichettare che costa praticamente zero non fa lag se non quello vi ho detto di inquinamento visivo e quindi in questo modo voi potete etichettare dei quadri degli oggetti e tutto quello che volete e potete fare insomma delle mostre d'arte o di qualunque altra cosa vi venga in mente di fare e questo credo sia abbastanza tutto per questo terzo incontro su Edmondo e come vedete non è soltanto per insegnanti può servire a tutti può servire su craft su open sim e anche questi script girano anche su second life quindi è tutto vi ringrazio buona serata grazie a tutti